Ma l'amore si completa solo attraverso un'altra persona e quindi l'amore dentro di noi è completo solo con un partner, una partner, più partner, in un'armonia nella relazione che genera con l'amore di cui noi abbiamo bisogno per completarci o l'amore è già tutto dentro di noi. E quindi se scopriamo e riusciamo a essere consapevoli di questo amore dentro di noi, dobbiamo poi solo liberarlo come una sorgente e invadere l'universo, le persone e tutti quanti, proprio perché ci occorre solo riconoscerlo, ci occorre solo capire che c'è per poterlo poi esprimere, liberare e portare al risultato che intendiamo ottenere. Qual è la versione giusta di questa cosa? Bene, entrambe sono giuste ed entrambe sono sbagliate. Cerchiamo di capire perché in questo nuovo video di Evo Amore, dove esploriamo attraverso le relazioni, i sentimenti e la sessualità, strade di crescita spirituale. Come abbiamo già detto in altri video, noi non nasciamo completi, non nasciamo illuminati, non nasciamo con la potenzialità di diventare realizzati a livello di completezza spirituale nell'arco di questa vita. Se non facciamo nulla, non accade niente, rimaniamo così come siamo. Ma abbiamo scoperto nella nostra esperienza umana che le nostre potenzialità sono estremamente maggiori, ne possiamo moltiplicare migliaia di volte e raggiungere dei livelli di comprensione, consapevolezza e quindi anche comprensione dei significati della vita e a questo punto anche di felicità e di completezza profonda, estremamente importanti. Alcuni l'hanno fatto da soli, apparentemente almeno, altri l'hanno fatto attraverso la relazione, attraverso lo scambio, attraverso la comprensione. Quando parliamo di relazione d'amore parliamo di qualcosa di estremamente ampio, ma l'amore, che è un grande mistero e a noi piace che rimanga un grande mistero, può essere vista da tantissimi punti di vista. Questi due estremi che vi dicevo all'inizio sono un po' due visioni che le persone hanno, che vediamo come noi di Amore nei confronti con le persone che ci seguono, ma anche con altri gruppi, che hanno un po' la tendenza a dividersi un po' in queste due grandi categorie. C'è la categoria del non sono completo finché non trovo la mia metà e quella io sono completo e sostanzialmente non ho bisogno di nulla. La relazione con le persone è solo uno strumento che mi permette di comprendermi meglio. Sono due estremi ovviamente, poi in mezzo ci sono tante vie più anche equilibrate, ma su questi estremi un po' tendenzialmente si gioca una partita di comprensione del significato dell'amore. Sono entrambi vere perché è vero che dentro di noi potenzialmente abbiamo già tutto. Dentro di noi scorrono questi due grandi flussi energetici che abbiamo chiamato maschile e femminile. La completezza, i punti di accesso che vengono conosciuti in Oriente come chakra esistono e quindi ci sono tutti questi elementi per collegare queste due energie tra loro. E in rarissimi casi, la storia, i testi sacri, le religioni ne hanno parlato in più occasioni, le persone sono riuscite anche da sole a fare quest'unione, questo collegamento al loro interno. Noi di Momore lo chiamiamo fuoco androgino, è un qualcosa che noi non abbiamo esplorato direttamente, perché non stiamo seguendo un percorso monacale, ma sappiamo potenzialmente, ne abbiamo intuito attraverso la nostra ricerca, l'effettiva possibilità. Quindi sì, certo è possibile unire queste nostre parti, queste nostre energie e sviluppare questa enorme catarsia energetica che può portare al risultato della famosa illuminazione, cioè questa grande consapevolezza che ci permette di comprendere tante cose. E soprattutto sviluppo un'enorme energia. Ma questa potenzialità non è una cosa che si può decidere di fare dall'oggi al domani, non è che mi sveglio un mattino e dico ok, adesso voglio unire le mie energie, fatto. Alla sera le mie energie sono unite. E non serve neanche un training di un weekend o cose di questo genere. Sono cose che richiedono una vita intera di dedizione. E in alcuni casi la vita intera non basta, proprio perché, come sappiamo, sono rarissimi i casi in cui poi le persone arrivano a questo risultato. E nella maggior parte dei casi si avvicinano solamente. Quindi è una via estremamente difficile. Quindi, versione 1. Sì, le potenzialità ci sono tutte, ma non è facile ottenerle da soli. Anzi, direi che è quasi impossibile, detta proprio in maniera molto pragmatica. È altrettanto vero che attraverso gli altri noi possiamo raggiungere la completezza? Certo che è altrettanto vero. Perché? Perché gli altri, cioè i partner, cioè le persone con le quali noi sviluppiamo una relazione profonda, diventano i nostri mediatori, diventano quelle persone che, attraverso questo processo, diciamo così, naturale, che abbiamo chiamato fuoco della passione, noi creiamo un circuito energetico nelle quali le altre persone sostanzialmente ci consegnano una chiavetta che ci permette di aprire questa porticina tra, in questa separazione tra l'energia maschile e femminile. E seppure questo tipo di apertura di questa porticina non è particolarmente grande, non è una cosa che ci porta immediatamente all'illuminazione, se no ogni volta che ci innamoriamo di qualcuno ci realizziamo per la vita, ma non accade in questo modo, ma attraverso delle progressive illuminazioni, noi accediamo, quindi colleghiamo le nostre energie maschile e femminili e possiamo cominciare a sentire, gustare e renderci conto di quanta potenzialità abbiamo nel momento in cui liberiamo questa energia. Questa energia, che poi abbiamo chiamato appunto fuoco della passione, il campo nel quale si crea questo tipo di unione, di energia, eccetera, eccetera, è un'energia importantissima. Perché? Perché è un'energia che ci porta a consapevolezza, quindi certo è grazie all'altra persona che questo accade, quindi è altrettanto vero. Dall'altra parte però questo tipo di potenzialità accade, uno, solo se noi abbiamo un certo tipo di presupposti impostati, se siamo in grado di generare una sufficiente intensità all'interno della relazione attraverso un intento specifico, e come abbiamo spiegato ci devono essere delle caratteristiche come il magnetismo che sono manifestate, se no tutto questo elemento non è che accade semplicemente perché ci uniamo alla persona o ci facciamo l'amore, non accade. Ecco che ci sono una serie di elementi, di presupposti che vanno impostati affinché questo tipo di unione possa diventare un circuito, una ruota che ci porta crescita e sviluppo spirituale. C'è tutto un lavoro da fare. Diversamente sarebbe anche in questo caso tutto molto molto più semplice. Non è semplicemente che il partner ci completa. No, il partner non è detto che ci completi, anzi delle volte diventa più una situazione difficile che facile, anche perché nella maggior parte dei casi quando noi liberiamo questa energia del fuoco della passione non sappiamo cosa farne, proprio perché non abbiamo delle basi culturali che ci consentono di comprenderne il valore e l'utilizzo che ne possiamo fare per noi stessi. E quindi cosa ne facciamo sostanzialmente? La rigiriamo tutta verso il nostro simulacro, cioè verso il nostro partner, verso la persona che amiamo. La ingigantiamo, la facciamo diventare una divinità che per carità ha tanta gratitudine per la possibilità che ci ha conferito. Ma al di là di quello poi, l'elemento che diventa poi ossessivo nell'innamoramento nasce proprio da questo presupposto, nasce dal fatto che noi tutta questa energia non riusciamo a utilizzarla per crescere, quindi per sviluppare maggiore consapevolezza e per far diventare evolutivo questo processo. Ma semplicemente noi, boh, lo rigiriamo, lo ributtiamo addosso alla persona che diventa la nostra star, la nostra divinità, la persona a cui dovremmo dare tutto la nostra vita, e finché il fuoco è così intenso noi siamo in quello stato. Ecco che c'è l'effetto rincoglionimento dell'innamoramento. L'innamoramento è in realtà uno stato di consapevolezza estremamente acuto, estremamente elevato ed estremamente evoluto. Il problema è che poi noi subito dopo, nel momento in cui accediamo a questo stato di consapevolezza e a questa grande energia che nasce proprio da questo presupposto, tutta questa energia che ci viene addosso, non sappiamo che farne. E quindi nel momento in cui la ributtiamo sull'altra persona, ecco che nasce quell'effetto rincoglionimento, sei imbambolato, pensi solo all'altro, non riesci più a lavorare, non riesci più a fare niente, sei tutto lì che pensi solo a quello, chiaro no? Questo contesto qua. Questo è un effetto. Provate a osservare quando vi capita di innamorarvi veramente tanto di una persona. Il presupposto iniziale è di grandissima consapevolezza. È quella la chiave sulla quale poi possiamo appoggiare degli elementi evolutivi, insieme ovviamente all'altra persona o alle altre persone, e crescere utilizzando bene l'esperienza. Quindi sì, le due versioni dell'amore sono tutte e due vere, ma entrambi sono incomplete. Quindi vanno utilizzate tutte e due. È importante sapere che l'integrità va raggiunta dentro di noi al tempo stesso. È altrettanto fondamentale la relazione, perché senza di essa non possiamo accedere a un meccanismo che non solo ci può portare all'accesso a determinate energie, ma, diciamo, in una prospettiva un po' più a lungo termine, ci permette anche di avere una o più persone, se viviamo nel poliamore, che ci consentono di vedere noi stessi e quindi di osservare meglio quelli che possono essere i nostri condizionamenti, i nostri imprenditi, i nostri limiti e superarli. Tanta roba utile che ci può portare soltanto dei risultati positivi se orientata adeguatamente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un like, commentate, tutti i commenti che ci portate, come già sta accadendo, ci permettono di sviluppare ulteriori argomenti, di approfondirli e di permettere voi di comprendere meglio i risultati della nostra ricerca. E spero che ci vediamo presto al prossimo video.